Amici, buonasera, dopo settimane di incontri, riunioni, riflessioni, vorrevo condividere con voi quello che sta accadendo ad Acerra in queste settimane, in questi giorni. Dopo oltre dieci anni di amministrazione comunale, di centrosinistra, di questo gruppo di potere, attrazione fortemente clientelare, che ha devastato la politica, annullato i partiti, e confinato alle opposizioni consigliarie ad una mera ratifica degli atti proposti dalla maggioranza, una maggioranza che ha querelato quei consiglieri comunali che chiedevano e esprimevano delle considerazioni in merito alla trasparenza della gestione dell'amministrazione comunale. Siamo qui oggi ad assistere all'ascissione del sistema, al centrosinistra che si divide in due, al presidente del Consiglio che vuole mostrarsi alla città come un'alternativa, come un noi che va a sostituire io. Mi verrebbe da chiedersi, scusa, ma in oltre dieci anni dove eravate? Se avete condiviso tutte le scelte di questa città, tutte le non scelte come quelle del piano urbanistico che ancora non c'è, tutte le non scelte come quelle di mettere un freno allo scempio ambientale su questo territorio, tutte le non scelte come quelle di trasformare questa città in un grande cantiere aperto nel quale si sperperano sordi e le opere pubbliche non hanno una funzionalità. Dopo aver non scelto di difendere il diritto alla scuola di tutti i bambini del primo circolo didattico, continuando a portare avanti la tesi per la quale quell'istituto va diviso, una parte va donato alla polizia di stato, una parte va lasciato alla scuola. Massimo rispetto per le forze dell'ordine, ma anche qui, 54 km di territorio, troviamo una soluzione diversa da quella di togliere aule ai bambini per dotare la città di un commissariato che deve essere sì spostato dalla sede dove ha, ma si può trovare sicuramente un'altra soluzione, come la stessa vicenda per la quale abbiamo perso lo stadio comunale ad appallaggio della villa comunale. E allora sono dieci anni e più di scelte condivise, di scelte politiche univoche, di scelte politiche fondate sul clientelismo con lo quale si fondano anche gran parte delle liste elettorali, con la quale gran parte si trovano candidature in base ad obiettivi personalistici, ad obiettivi personali di tanti ragazzi, di tante persone in questa città che alla ricerca di un'opportunità mettono a disposizione la propria faccia, il proprio consenso per continuare ad arricchire questo sistema di potere. E allora qual è la verità, qual è la giustizia se non provare a costruire un'alternativa a questo sistema? Ed oggi invece a cosa assistiamo? Assistiamo a quello che è rimasto della politica locale, a quello che è rimasto della società civile, ad un contendersi, ad un remare da una parte o dall'altra, ad apportare il proprio contributo al Presidente del Consiglio Comunale che inizia a camminare con le proprie gambe costruendo un'alternativa, oppure ad ingrossare le fila del sindaco uscente che è impegnato alla costruzione di una nuova maggioranza, due facce della stessa medaglia. E allora dov'è il coraggio? Dov'è la voglia di cambiamento in questa città? Non possiamo assistere a tutto ciò inermi. La città ha bisogno di una terza via, ha bisogno di una speranza, ha bisogno di chiarezza, ha bisogno di scelte condivise, ha bisogno soprattutto di democrazia, ha bisogno di persone che si candidano perché credono di fare qualcosa per la propria città e non di persone che si candidano perché hanno bisogno di raggiungere un obiettivo personale, perché è di questo che parliamo, perché sono settimane che giro alla ricerca di persone che possono dare il proprio contributo ad un'idea della politica, della democrazia, alle battaglie per questo territorio e sono settimane che mi sento rispondere che non c'è possibilità perché per impegni presi, perché per promesse fatte, certe persone devono dare il proprio contributo familiare a questa fazione piuttosto che all'altra. E allora vedete, credere nell'opportunità di ricostruire il centrodestra non è solo ridare alla politica locale un luogo fisico che non esiste più, ma è ridare una speranza. E io, come ho sempre fatto in politica, come ho sempre fatto nella mia vita, voglio essere trasparente. E siccome non posso da solo determinare le scelte né di Fratelli d'Italia, né del centrodestra, né di tutti gli acerrani, però posso decidere che o riusciamo a costruire un'alternativa, o siamo credibili come Fratelli d'Italia, come centrodestra, come acerrani, perché questa è una battaglia della città, è una battaglia della democrazia, è una battaglia che deve essere quella di ognuno di voi, ogni cittadino che vuole una città che abbia opportunità per tutti, ogni cittadino che vuole che la democrazia funzioni davvero. E allora io non ci sarò in una campagna elettorale nella quale non c'è un'alternativa, non ci sarò se insieme agli amici che condividono il mio percorso non sarò stato in grado di costruirla, un'alternativa. Poi saranno gli acerrani a decidere, quelli liberi, che sono la maggioranza di tutti quelli che hanno l'anello al naso, che sono la maggioranza rispetto a tutti quelli che hanno vincoli per mere opportunità personali. Noi vogliamo che la città ritrovi, si riapprovi della propria socialità, che gli spazi diventano pubblici e democratici per tutti, che tutti gli acerrani possano partecipare indistintamente ad un concorso pubblico e avere le stesse opportunità. Questa è la città di che immaginiamo e questa è la città per la quale mi batterò insieme a quanti ci crederanno e questa è la città per la quale metterò la faccia. Diversamente resterò a casa perché non potrò mai prendere parte a una competizione elettorale dove già in partenza, la speranza e il futuro per i giovani non esiste. Io vi chiedo scusa anche per i toni, però era tanto tempo che volevo comunicare con voi ed era tanto tempo che volevo trovare un modo per essere chiaro e trasparente. Credo di essere lo Stato, mi chiedo scusa se ho avuto dei toni forti, però la rabbia è tanta come tanto è l'amore per questa città. Vi aspetto, sarò in giro ogni giorno per costruire un'alternativa insieme a chi veramente la vuole. E fino alla fine, fino all'ultimo minuto utile, utilizzerò il tempo solo ed esclusivamente per questo. Buona serata.